Il 27 ottobre 2022 scadranno i termini per presentare la documentazione necessaria ad ottenere un risarcimento tramite uno speciale fondo del PNRR per gli eredi nei massacri nazifascisti. Anche il comune di Cavriglia fu vittima di queste stragi nel luglio 1944. In questo territorio si consumò un orrendo massacro nazista nel quale vennero uccisi 189 civili. Ma è bene sottolineare che molto probabilmente, fa sapere l'amministrazione, i risarcimenti riguarderanno solo chi ha sentenze passate in giudicato e dato che a Cavriglia non ci sono soldati nazisti condannati per i crimini commessi, gli eredi dei civili massacrati tra il 4 e l'11 luglio 1944 potrebbero vedere sfumare le possibilità di ottenere un risarcimento. Chi comunque fosse interessato ad intentare una causa prosegue l'amministrazione comunale, si può mettere in contatto quanto prima con un legale esperto della materia e valutare se sussistono le credenziali per avviare l'iter giudiziale. La dotanza del fondo è di 20 milioni per l'anno 2003, 11,8 milioni per gli anni 2024, 2025 e 2026 per un totale di 50 milioni di euro.